Iniziative per il contrasto al fenomeno della denatalità, con particolare riferimento a misure di sostegno alle famiglie e al potenziamento della rete dei servizi per l'infanzia. La deputata Lucaselli ha facoltà di illustrare l'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. A lei la parola, deputata Lucaselli. Grazie Presidente. Signor Ministro, come sicuramente sa meglio di me, le recenti rivelazioni dell'Istat hanno evidenziato un fenomeno molto preoccupante e purtroppo un fenomeno che non si riesce ad arrestare, cioè quello sulla natalità nella nostra nazione che dal 2008 complessivamente ha fatto registrare una diminuzione delle nascite del 30,6%, un calo della natalità che è per lo più riconducibile all'incertezza economica e lavorativa da un lato e alla carenza di servizi alle famiglie e che va sicuramente contrastato avviando non solo un processo culturale di sensibilizzazione ma mettendo a disposizione anche le risorse economiche necessarie. Per Fratelli d'Italia, vede Ministro, questo è sempre stato un tema fondamentale. Quello del sostegno alla genitorialità è per noi una priorità assoluta che deve essere affrontata culturalmente ed economicamente. Ed è proprio per questo motivo che la legge di bilancio del 2023 ha già destinato un miliardo e mezzo alle famiglie con l'obiettivo di promuovere la natalità. Evidentemente questo non è sufficiente. Le chiediamo di illustrarci quali sono le sue ipotesi di lavoro futuro per sostenere la natalità. Grazie. Il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità è Eugenia Roccella, a facoltà di rispondere. A lei la parola. Grazie Presidente. Il tema sollevato per il Governo è una priorità assoluta. In pochi mesi la questione demografica ha già ricevuto importante attenzione, come è stato ricordato anche adesso, a cominciare dalla legge di bilancio che è intervenuta con il potenziamento dell'assegno unico, la riduzione dell'IVA sui prodotti per la prima infanzia, la stabilizzazione dei sostegni per i figli con disabilità, l'estensione dei congedi parentali. Nella stessa direzione vanno anche la decontribuzione per l'assunzione di giovani e donne, i mutui agevolati per le giovani coppie, gli interventi come la carta risparmio e il reddito alimentare. I nostri principi ispiratori in futuro continueranno a essere l'equità orizzontale, affinché un figlio non sia un elemento penalizzante per le famiglie e per le donne. Noi non chiediamo che le famiglie abbiano di più, vogliamo che almeno adesso non abbiano di meno, come è stato per troppo tempo. Non vogliamo la libertà, l'altro principio ispiratore, non per convincere le donne a fare figli, ma perché si sentano libere di farli se li vogliono fare. La sussidiarietà, affinché ogni soggetto sia coinvolto per il proprio livello di responsabilità. La nostra strategia è affiancare alle misure dirette in favore della natalità un approccio trasversale e sinergico, che possa permeare ogni ambito dell'azione di governo e consideri il fattore demografico e familiare un parametro qualificante. Allo stesso modo intendiamo promuovere un grande piano che coinvolga tutti gli attori in campo, dagli enti locali alle imprese, dal no profit ai corpi intermedi, per agire su un piano tanto economico e dei servizi quanto culturale. Come in ogni intervento che riguarda il futuro, è necessario che le misure abbiano un orizzonte stabile di lungo periodo, per rendere certa la base sulle quali le famiglie possono contare. E bisogna creare un ambiente favorevole alla maternità. Non certo per negare la dualità delle figure genitoriali, e quindi il prezioso apporto della figura paterna, ma per fare in modo che il maggior peso che oggettivamente ricade sulle donne non sia di ostacolo alla realizzazione personale e dunque non sia un freno alla realizzazione del desiderio di maternità, ove questo vi sia. Serve dunque una filiera di servizi e serve un importante coinvolgimento del mondo del lavoro e dell'impresa, in termini di contesto e di welfare integrativo. Si tratta di un investimento sul futuro. Gli ambiti di intervento, sia per il welfare statale, sia per la sollecitazione del welfare aziendale, sono la continuità di carriera delle madri, le iniziative di prevenzione e cura dei bisogni di salute, l'adattamento dei tempi e modi di lavoro, la facilitazione delle transizioni familiari legate alla maternità. Non si tratta di adottare un approccio dirigista, ma di rimuovere gli ostacoli che frenano la realizzazione di un desiderio di genitorialità che in Italia ancora resiste e che va accompagnato. Grazie, Ministro Ruccella. Facoltà di replicare la deputata Morgante. A lei la parola. Grazie, Presidente. Grazie, Ministro, per l'esposizione chiara, precisa, puntuale e soprattutto esauriente. Il gruppo di Fratelli d'Italia, Ministro, è al suo fianco. È al suo fianco perché crede fortemente nel suo progetto, perché crede fortemente che l'emergenza a natalità sia un'urgenza non più rimandabile, ma anche perché crede fortemente che per ovviare la crisi demografica serva non solo una leva economica, ma anche una leva culturale. Una leva culturale che rimetta al centro i bisogni della famiglia e una leva culturale che restituisca alla maternità l'alto valore sociale, forte, chiaro e preciso. Siamo sicuri, Signor Ministro, che lei farà di tutto per supportare le famiglie in questo momento storico così difficile, creando pertanto quelle condizioni di tipo economico, ma anche di tipo sociale e culturale, che possano davvero fare la differenza. Grazie, Ministro.